Vittima, un 59enne di Empoli, i sanitari hanno stabilito 30 giorni di prognosi. Ci sono stati degli investimenti, ci sono dei grossi investimenti per la Fortezza d'Abbasso di Firenze. Questa mattina c'è stato anche il sopralluogo della Commissione regionale. Sentiamo quale sarà il futuro della Fortezza d'Abbasso di Firenze. Investimenti fra gli 80 e i 100 mila euro per il rilancio della Fortezza d'Abbasso di Firenze, il recupero e la realizzazione di nuovi padiglioni. Per il raggiungimento di questo obiettivo, sopralluogo della Commissione di Controllo del Consiglio regionale alla Fortezza, è incontro con il Presidente di Firenze Fiera, Carlo Bossi. Il punto della situazione, nelle parole del Presidente della Commissione, Paolo Marcheschi. La Commissione di Controllo che presiedo si occupa del patrimonio e come si è appreso in una delle ultime delibere della chiusura del bilancio della Regione, la Regione ha deciso di comprare un terzo della Fortezza. Era già proprietario del 7%, diciamo con un rimescolamento di quote e di proprietà con il Comune e la Provincia. Ha deciso di spendere 38 milioni e mezzo e quindi siamo proprietari come Regione di un terzo della Fortezza. Oggi quindi siamo venuti a vedere di che cosa si tratta, l'acquisto della Fortezza sappiamo, soprattutto la necessità per la ristrutturazione di tutti i padiglioni che hanno avuto delle vicissitudini, sapete che sono state anche sotto sequestro, hanno delle autorizzazioni provvisorie, quindi ci sarà molti soldi da spendere. Abbiamo accertato che il piano che i tecnici di Comune, Provincia e Regione stanno approntando è di 80-100 milioni per ripristinare e recuperare praticamente le strutture all'interno della Fortezza, al quale sarà accompagnato poi un piano industriale che farà la società. Ecco abbiamo preso oggi una cosa, a differenza di quanto si era letto sulla stampa, che la società che gestirà questa fase come concessione sarà Firenze Fiera, quindi non una nuco come si è letto, ma per ora la norma ci è stata spiegata bene che indica come unica concessione la Firenze Fiera.